Il fascino borghese della fotografia, politica, costume e società dall'archivio fotografico del Borghese, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e ospitata nel Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni V e Saluzzo Cuneo. L'allestimento propone una ricchissima panoramica dell'Italia che fu dall'immediato dopo guerra agli anni di piombo. È visitabile fino al 29 aprile, martedì, mercoledì 10, 12 e 30 e 15 e 17, giovedì, domenica 10, 12 e 30 e 15 e 19. Dal 14 aprile è visitabile presso la Fondazione Rosmini di Domodossola la mostra Dalla storia alla satira, cronache ed eventi in caricatura da Cavur ad Andreotti, curata da Dino Aloi. L'allestimento itinerante, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte, propone più di 400 vignette satiriche uscite dalla matita di grandi autori e vuole essere testimonianza storica e omaggio ad alcuni dei principali personaggi della storia d'Italia dal 1848 ad oggi. La mostra rimane aperta al pubblico fino a domenica 13 maggio.